Musica Le marche confermate in zona gialla per la prossima settimana. Da domani al via le prenotazioni dei vaccini anti-covid anche con sms per la fascia di età 60-64 anni. Albanese di 40 anni arrestato dalla polizia per spaccio di droga, fermato a bordo dell'auto al casello di Fano, nascondeva la cocaina all'interno delle scarpe. Ecco la nuova biblioteca federiciana che sorgerà di fianco all'attuale edificio nel centro storico di Fano. Sarà uno scrigno trasparente su quattro livelli con terrazze interne e panoramiche. A progettarla l'architetto di fama internazionale Mario Cucinella. A Sassonia di Fano interrotti i lavori per le scogliere dispiaciuto. Il vice sindaco che rassicura la ditta concluderà l'intervento entro il mese di giugno. A settembre inizieranno anche a metà auriglia per la difesa della costa e della linea ferroviaria. Anziani mai più soli, grandi emozioni alla Don Paolo Tonucci per la nuova stanza degli abbracci. Con pareti gonfiabili e divisori in plastica si torna a sorridere e ad accarezzare i familiari dopo mesi di lontananza. Concerti, spettacoli e tanta allegria. L'arena BCC di Fano riparte con un ricco calendario di eventi. Ottanta le serate in programma nel rispetto delle norme anti-covid aumentate alla capienza dell'anfiteatro. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano la buona notizia che arriva dalla cabina di regia dal lunedì prossimo 10 maggio. Non ci saranno più le zone rosse in Italia e le marche sono state confermate in zona gialla. Gli spostamenti quindi saranno liberi dalle 5 alle 22 in tutta la regione. Per le visite ad amici e parenti, numero massimo di 4 persone, oltre a eventuali figli minorenni e conviventi con disabilità una sola volta al giorno e nel rispetto degli orari del coprifuoco. Negozi aperti, bar e ristoranti possono fare servizio al tavolo esclusivamente all'aperto. Sono aperti anche i cinema, i teatri, i concerti, i musei nel rispetto dei protocolli anti-covid. Scuole in presenza al 100% fino alla terza media e al 70% per le superiori. D'altra parte però nelle Marche si registrano ancora dei decessi legati al coronavirus. Nell'ultima giornata sono morte 5 persone e nessuna di queste vittime era residente nella provincia di Pesero Urbino. I nuovi positivi sono 314, di cui quasi la metà nella provincia pesarese, dove sono stati rilevati 145 contagi. Invece il totale dei ricoveri è in calo. Negli ospedali delle Marche ci sono 17 pazienti in meno rispetto a ieri, ma mentre i degenti in semi-intensiva scendono a 109, quindi meno 3 in 24 ore, il dato delle terapie intensive rimane invariato su ieri con 65 pazienti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Da domani partiranno le prenotazioni per la fascia di età che va dai 60 ai 64 anni. Al via domani sabato 8 maggio dalle ore 12, la prenotazione per i vaccini anti-covid per la fascia di età 60-64 anni. Questa categoria sarà vaccinata nei punti già individuati sul territorio regionale e sarà possibile prenotare le somministrazioni attraverso il portale di poste italiane o tramite il numero verde attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 20. Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell'utente, occorrerà disporre della tessera sanitaria, del codice fiscale e di un numero di cellulare sul quale verrà notificata la conferma. Inoltre è possibile prenotare anche nei postamat e tramite il portalettere. Una volta avviata la richiesta all'utente, verrà comunicato il giorno, la sede nella quale verrà somministrato il vaccino e l'orario in cui ci si deve presentare. Al momento dell'inoculazione della prima dose sarà comunicato anche il giorno per effettuare il richiamo. La regione poi ricorda che i marchigiani possono prenotare la loro dose anche inviando un sms con il codice fiscale al numero 339-990-3947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di poste italiane per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e alla data dell'appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'invio di un semplice sms dall'operatore telefonico di appartenenza. E lunedì partiranno le prenotazioni da verificare sempre sul sito ufficiale della regione Marche per le persone con patologie non gravi che non rientrano tra le persone estremamente vulnerabili di età compresa tra i 50 e i 60 anni. La cronaca, la squadra mobile di Pesaro in collaborazione con gli agenti dei commissariati di Fano Urbino ha arrestato un albanese di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di droga. Lo straniero è stato sottoposto al controllo insieme a un connazionale all'uscita del casello autostradale di Fano. Alcuni particolari hanno attirato l'attenzione dei poliziotti che hanno chiesto l'ausilio di una unità cinofila della Guardia di Finanza. E infatti la perquisizione ha permesso di trovare all'interno delle scarpe del quarantenne sei involucri termosigillati contenenti cocaina per un peso complessivo di 32 grammi. Il successivo controllo, nella sua casa a Rimini, ha portato al rinvenimento dei bilancini elettronici, di alcuni ritagli di plastica per il confezionamento delle dosi e di 20 grammi di mannitolo, una sostanza utilizzata per tagliare la droga e permettere un guadagno maggiore. Questa mattina, a seguito del rito direttissimo, l'uomo è stato condannato alla pena di 11 mesi di reclusione. A Fanno questa mattina è stata presentata la nuova biblioteca federiciana. Il progetto è stato curato da un architetto di fama internazionale e prevede un ampliamento su quattro livelli con terrazze interne e panoramiche. A seguito per noi la conferenza stampa che Fano TV ha trasmesso in diretta a Filippo Pucci. Nuova vita per la biblioteca federiciana di Fano. Il Comune e la Fondazione Montanari uniscono competenze e sinergie per donare alla città lo storico palazzo attraverso un progetto di recupero e ampliamento della storica biblioteca fondata nel 1681 dall'abate Domenico Federici. A curare il piano di lavoro è stato l'architetto di fama internazionale Mario Cucinella che questa mattina attraverso una conferenza stampa ha presentato il nuovo edificio diviso in quattro sezioni. Uno interrato per preservare i volumi, l'entrata al piano terra, mentre gli altri piani interni saranno a sbalzo, quasi sospesi e sfalsati tra loro per culminare poi con una terrazza panoramica che punta verso l'orizzonte del mare Adriatico. Altro elemento di questa struttura è il rivestimento in vetro in modo circolare che consente l'ingresso della luce tutta al naturale a beneficio di un maggior comfort visivo nei luoghi di lettura riducendo così quella artificiale come anche la ventilazione degli spazi. Il progetto finale è stato presentato all'interno della Sala della Navigazione Montanari. È un progetto di completamento di quello che è il sistema bibliotecario fanese che comprende al momento due biblioteche, la Mediateca che è la biblioteca moderna e di consultazione e l'altra, per dire la verità, ancora più importante, che ha bisogno di urgenti ristrutturazioni. Ecco perché abbiamo fatto fare questo progetto dall'architetto Cucinella e come lei ha visto i risultati sembrano veramente eccezionali. La biblioteca che sarà a disposizione non solo di tutta la cittadinanza ma noi pensiamo che sia ad esempio anche per persone che vengono da fuori e non solo dall'Italia. Il progetto di recupero è volto a conservare l'edificio storico mentre il nuovo ampliamento sorgerà al posto di quello moderno già esistente dove verrà demolito per ospitare i nuovi piani bibliotecari creando così un intreccio tra la fanostorica e quella moderna. Un'opera di riqualificazione che significa rendere la città sempre più bella, sempre più attraente ma soprattutto sempre più ricca. Ricca non soltanto di opere ma anche di contenuti. Ciò arriva grazie ad una collaborazione importante fra la Fondazione Montanari e l'amministrazione comunale che parte da lontano, che ha visto già un'opera che ha ottenuto un grande successo, la Memoteca Montanari e direi che con questa nuova opera che oggi parte sarà un circuito bibliotecario che porterà la nostra città alla stregua delle grandi città europee e questo ovviamente non può che renderci orgogliosi e la soddisfazione anche come sindaco è quella di dire che è una città che si sta trasformando, che sta cambiando il suo volto, rendendosi sempre più ricche e diventando sempre più una città attraente. E quindi ecco, non posso nascondere l'emozione e l'altro elemento che mi piace sottolineare è questa visione del futuro che avviene attraverso una sinergia, una collaborazione tra pubblico e privato come avveniva, come è avvenuto anche nei momenti importanti della storia della nostra città. E la conferenza stampa ve la riproponiamo questa sera in seconda serata. Ci spostiamo adesso a Sassonia di Fano dove sono stati interrotti i lavori per l'ultimo tratto delle scogliere. L'assessore Cristian Fanesi che ha contattato la ditta incaricata assicura che l'intervento terminerà entro il mese di giugno a settembre poi si passerà a quelle di Metaurilia. Era partita il 22 aprile dall'isola croata di Brazza l'unità trasporter 3 che aveva portato a Fano il materiale per la rifioritura e la posa delle scogliere lungo il tratto antistante, la zona di Sassonia. Erano cominciati quindi lavori davanti a Bagni Carlo e a Bagni Gabriele per l'intervento che andrà a migliorare i problemi di erosione della costa. Ma tempo due o tre giorni e la chiatta non si è più vista a spiegare quanto accaduto e il vice sindaco Cristian Fanesi dispiaciuto per l'interruzione dell'intervento. La ditta Slimar a cui avevamo incaricato di terminare le scogliere ci ha illuso da un certo punto di vista. Mancano ancora 5.000 tonnellate di materiale che deve appunto venire dalla Croazia per poi essere sistemato sopra le scogliere che comunque già si vedono e sono già profilate. Ecco, devono solo creare una berma più efficace e ci hanno garantito che lo faranno entro la fine del mese di questo mese, l'inizio di giugno. Ci auguriamo, prosegue Fanesi, che le promesse fatte vengano mantenute. Va detto però che ci sono stati anche problemi di approvvigionamento del materiale. Comunque, entro la stessa data dovrebbe arrivare un altro carico di scogli per concludere i lavori prima della chiusura delle scuole. Dunque siamo comunque soddisfatti anche se preoccupati perché ovviamente finché non è il lavoro finito noi non siamo contenti. I termini contrattuali, d'altra parte, hanno la possibilità di finire i lavori anche nel mese di giugno e se la Regione Marche, la Capitaneria di Porto fino adesso ci hanno dato tutte le proroghe per poter lavorare anche a giugno, ce le concederanno anche quest'anno, siamo convinti di poterlo fare senza grossi problemi. Fanesi poi ha ricordato i finanziamenti ottenuti in questi anni dalla Regione e le risorse messe a disposizione dal Comune per un totale di oltre un milione di euro. Il Vice Sindaco ha anche annunciato la chiusura della gara fatta insieme al provveditorato delle opere pubbliche di Ancona per le scogliere di Metaurilia. A giorni verrà nominata la Commissione, poi si dovranno valutare le offerte e si deciderà l'impresa che potrà iniziare i lavori a settembre, rispettando così i termini contrattuali. Si tratta di un investimento che supera i 4 milioni di euro parzialmente finanziato da RFI a difesa della linea ferroviaria. È un intervento molto atteso per Metaurilia, certamente, in una zona comunque bellissima ma che ha bisogno di servizi in più per quanto riguarda l'offerta turistica. Nel frattempo proseguono i lavori sulle spiagge per livellare gli arenili che a giorni saranno disponibili per la balneazione. Quest'anno a Sassonia c'è un intervento in più perché nel corso dell'inverno scorso abbiamo accumulato nel retro spiaggia e al bordo della spiaggia, non sulla battiglia ovviamente, cumuli di ghiaia perché appunto eravamo in previsione di poter distendere e allungare ancora di più la spiaggia di Sassonia che laddove è difesa dalla costa è incrementata, dalle scogliere scusate, è incrementata di tanti metri e quindi questa è una notizia positiva una notizia positiva il nostro lavoro intrapreso negli ultimi anni ha portato degli effetti benefici sullo sfruttamento sia delle spiagge in concessione e ci mancherebbe altro ma anche sulle spiagge libere che a Sassonia comunque ci sono. Ieri la conferenza delle regioni e delle province autonome ha confermato alle Marche al coordinamento della Commissione Sviluppo Economico rappresentante quindi all'assessore regionale alle attività produttive Mirko Carloni un ruolo importante e di responsabilità in una fase delicata di ripartenza dell'economia la Commissione infatti si occupa di numerose materie tra le quali industria commercio, mercati zone economiche speciali ed expo internazionali altro ruolo importante affidato alle Marche è la disegnazione dell'assessore al bilancio Guido Castelli quale membro effettivo al Comitato Europeo delle Regioni organo consultivo dell'UE che rappresenta gli enti locali e regionali d'Europa L'emozione di una carezza ma anche sorrisi stampati sui volti alla Don Paolo Ottonucci a Fano è stata allestita una stanza degli abbracci per permettere agli anziani di incontrare e stringere i familiari dopo lunghi mesi di lontananza a causa della pandemia incontri speciali grazie a una stanza degli abbracci si torna a sorridere alla Don Paolo Ottonucci la struttura residenziale per anziani realizzata dalla fondazione Cassa di Risparmio di Fano dopo mesi di lontananza saluti tramite uno schermo o telefonate finalmente gli ospiti possono tornare a incontrare i propri cari in tutta sicurezza l'iniziativa è stata predisposta dal comune di Fano e questa mattina il sindaco Massimo Serie e l'assessore al welfare Dimitri Tinti si sono recati nella RSA per vedere e provare questo piccolo spazio la camera è composta da un tessuto di gomme ignifugo ed è dotata di una parete trasparente dalla quale si estendono due maniche da indossare per abbracciare accarezzare o stringere le mani di chi si ha di fronte questi sono sempre momenti belli perché toccano i sentimenti le emozioni abbiamo attraversato un momento difficile di solitudine per molte persone di distacco dai sentimenti dagli affetti e allora ecco questi momenti che attraverso piccoli gesti attraverso piccole infrastrutture che consentono di riavvicinare di riabituarci ad una pseudonormalità che ancora non è arrivata ma che aspichiamo che arrivi presto quindi queste cose questi momenti sono momenti di vicinanza sono momenti di affetto sono momenti di amore l'iniziativa aggiunto invece l'assessore Tinti dimostra la nostra attenzione alla gentilezza e alla premura verso le persone che amiamo del resto l'abbraccio anche se attraverso una protezione rimane il gesto d'amore più semplice ma anche più grande che si possa fare finalmente c'è una sorta di riapertura di una modalità quella che chiaramente oggi si può utilizzare per cercare di ritrovare un minimo di contatto con gli ospiti di questa struttura con gli anziani non autosufficienti che sono che risiedono e che sono ospiti in questa struttura quindi i familiari possono grazie a questa stanza degli abbracci ritrovare un contatto è una cosa molto bella e chiaramente noi come comune siamo partecipi di questa iniziativa è un'iniziativa importante che riporta un abbraccio comune un parco inclusivo musicale dove i bambini potranno divertirsi insieme senza barriere e senza divisioni il Miralfiore a Pesaro si arricchisce di un nuovo spazio che potrà essere utilizzato da una vasta gamma di giovani con abilità diverse perché il gioco hanno ricordato il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Enzo Belloni è per tutti il progetto è stato realizzato da Renco e il parco giochi è incentrato sul tema della musica sono presenti dei veri strumenti interattivi come campane tubolari metallofoni e tamburi che possono far scoprire ai bambini sottili cambiamenti del suono e le infinite combinazioni e c'è fermento alla cooperativa Tre Ponti a Fanno per il nuovo calendario di eventi all'Arena BCC il presidente Gino Bartolucci annuncia un'estate ricca di eventi spettacoli e concerti aumentata la capienza dell'anfiteatro Risate musica applausi ci ricordiamo ancora un'arena così con più di mille persone sedute e un'allegria contagiosa anche quest'anno però a causa della pandemia non potremo rivivere la stessa atmosfera infatti la capienza è ridotta ma grazie al piano di riapertura del governo il mondo dello spettacolo inizia a rimettersi in moto e se la curva epidemiologica nelle Marche rimarrà sotto controllo all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano si potrà partecipare a grandi serate in tutta sicurezza dopo la bella esperienza dell'anno scorso il cinema l'ha aperto con Giometti Massimiliano Carmine Imparato che naturalmente avevamo fatto questo programma di tre anni il primo anno è stato all'altezza della situazione sapendo che in primo anno c'è sempre la prima volta però dal lunedì al giovedì riproporremo il cinema l'ha aperto dal primo di luglio al 30 agosto e si tornerà anche a ridere assicura Bartolucci sia con i comici del San Costanzo Show sia con il concorso di Barzellette a Crepapelle domenica 8 agosto ma con alcune novità quest'anno non avremo dei concorrenti locale ma avremo i quattro finalisti della Sall'Ultima del 2020 2019-2020 perciò la serata sarà dedicata non ai soliti dilettanti nostri ma ai professionisti della Barzelletta poi avremo il teatro dialettale con tutti i venerdì praticamente devo dire quest'anno che siamo strapieni perché abbiamo giugno luglio agosto circa 80 serate infatti spiega il presidente gli anni passati erano al massimo 25 le serate organizzate nel nuovo calendario poi non mancheranno neanche i concerti riproporremo quest'anno abbiamo Pacassoni Marco Pacassoni col suo gruppo avremo la cover dei Queen avremo la cover dei Vasco Rossi praticamente poi una serata con la Rossini Orchestra che tutti gli anni fanno una serata da noi diciamo un calendario non pieno ma strapieno infine l'ultima novità riguarda la capienza dell'arena che quest'anno verrà aumentata rispetto al 2020 i posti complessivi sono 1050 ma in base alle norme anticontagio la scorsa estate si teneva in considerazione la distanza di un metro tra spalla e spalla per un totale di 470 posti a sedere poi però è arrivata la conferma che deve essere misurata da bocca a bocca e alla fine a settembre è venuta fuori che la giusta era quella interpretazione e bocca a bocca perciò quest'anno sarà una sedia sì e una sedia no perciò dovremmo arrivare a una capienza io dico adesso a spanne perché il nostro tecnico che ci dovrà valutare dovrebbe essere di circa 620 650 persone ottima direi perché già un numero importante naturalmente di questi tempi fare delle serate già con 650 persone è un ottimo risultato vi ricordo che lunedì sera dopo il telegiornale in diretta torna primo cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci tra poco invece una nuova puntata di esplorare i confini con Orizzonti di Robotica e Bruno Siciliano dell'Università di Napoli Federico II domani mattina alle 7 come sempre in diretta torna la rassegna stampa occhio ai giornali grazie per averci seguito e buon fine settimana Grazie a tutti